La Promovol Sanitars di Bienno cede in trasferta contro la MGKV Svolley Piadena con il risultato di 3-0 nella gara valida per l'ottava giornata della Serie C FIPAV. La gara è senza storia con le padroni di casa che impongono il loro gioco con facilità contro una Promovol che non riesce a trovare il pallino del gioco. La gara inizia in sostanziale equilibrio senza nulla di particolare da dire sulle due squadre ma dopo qualche punto in più consecutivo delle avversarie che si portano sull'11-9, Johnny Taramelli, allenatore delle ospiti della Promovol Sanitars di Bienno, usa il primo tempo. Troppi errori in battuta non permettono a Promovol di agganciare le avversarie sul 16-14. Sul 15-16 arriva il primo tempo avversario su un buon turno in battuta di Gunnar. Taramelli utilizza il secondo tempo sul 19-20 e arriva la chiamata del secondo tempo anche per le padrone di casa del Piadena sul 20-21 che puntano a chiudere la pratica e ci riescono sul risultato di 25-22. Il secondo tempo ricomincia con la stessa formazione del primo set ma le avversarie vanno subito in vantaggio portandosi sul 4-3. Sul 10-5 arriva il primo tempo per Promovol dopo qualche stecca in ricezione e sul 14-9 arriva il doppio cambio con Papa e Tomasi per Gasparini e Conti che rientrano per il turno successivo dopo il recupero di palla. La Promovol però perde la lucidità e non riesce a costruire muri efficaci. Le avversarie se ne approfittano e il secondo set termina sul risultato di 25-15. In campo per il terzo set Promovol schiera Gaspari al posto di Tomasi e Bertoletti come libero al posto di Frapporti. Le biennesi sembrano macinare un miglior gioco e riescono a mantenersi sempre avanti di un punto fino all'8-8 quando Taramelli chiama il tempo per stringere le fila. La squadra di Bienno però si incarta appena dopo l'undicesimo punto e le avversarie ne approfittano portandosi in poche giocate sul 15-11. Anche il terzo set finisce come gli altri a favore delle padrone di casa della MGKV Spiadena con il risultato di 25-14 e il finale di 3-0 ai danni delle ospite della Promovol Sanitars di Bienno. Grazie a tutti.